oh oh mauro dove siamo oh buonasera buonasera dove siamo guarda guarda suggerisci abbiamo cambiato posto secondo me non sono sempre gli stessi posti io non so che cazzo prendere stasera già iniziamo bene iniziamo bene o mi prendo cheeseburger più bacon o prendi i soliti tramezzini ah caro mi ha detto che di prendere che tu prendi quello con l'uovo non so come si chiama io forse 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 ancora un minutino va bene grazie colpa sua sì colpa mia perché sono indeciso stasera sì ma quello c'è quello è buono quello è buono è buono ma non so come si chiama no uova e bacon non sono e non so neanche se ci sono perché hanno cambiato il menu ricordati prossima volta che vieni qua che non c'è più uova e bacon perciò giù pesanti no la copa mia infatti non c'è non sto scherzando non c'è c'è pasta e fagioli no no mi prendo il solito sandwich doppio così e buona pasta no no mi prendo il solito sandwich doppio così e buona pasta no non c'era questo vetro prima chi cazzo la modificata forse alcune come me che continuano a guardare oh cazzo mi sono di prendo vuoi provare a farti un selfie giri così fai una panoramica e via no ma il selfie lo facciamo quando arriva la roba ah ringrazio papà Mauro e mamma Mauro perché così ho ricaricato il cellulare col carichino tu calma col carichino tu neanche mesurato la corrente di caldo hai visto non ho sciolto niente nessuno perché era la corrente di caldo del compito del lavoro quindi non ho sciolato niente nessuno e allora sei a posto allora tu però doveva venire il carola stasera cioè è mancata è mancata cioè è stanca diglielo è tanca se tanca to è stanca to to te come quello là delle ieri ieri to 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 però vaffanculo e quelle altre minchia scappate così naturale che dici non è to però perché hai detto così parla solo to vabbè lasciamo perdere è quello che gli ho preso il rosso nell'occhio mamma e to casualmente però è sicilio cioè vabbè lasciamo perdere sono vari dialetti varie lingue via to qua è tac e invece è tac bene è colorito sono già ventilatori che vanno perché fa caldo e poi con il caffè non ci trovo che è allalata ormai tanto c'è il solito posto il nostro libero sì libero certo tutto occupato guarda là abbiamo il posto al parcheggio libero e il caffè libero è il top oh raga questo qua aspettiamo di ordinare iniziamo bene la serata ciao a dopo ho fame ho fame